Buongiorno a tutti, siamo molto rieti che siete venuti a vedere il nostro spettacolo. Abbiamo realizzato una classe seconda C in collaborazione con la professoressa Ducci e la professoressa Seggi. Abbiamo dovuto fare qualcosa per concludere la nostra scolastico. Abbiamo pensato che un bel aspettato fosse la cosa migliore, anche perché c'è da vincere la nostra scolta. Abbiamo passato un anno splendido, ecco a voi il nostro saggio. Si intitola Giocando con la poesia, musica e parole. Consiste nell'abbinare delle poesie o dei limeri che al brano appropriato. Chi non sa cosa o limeri non c'è nessun problema, sono delle bravi cose scherzose inventate da noi. Spero che vi divertirete perché ci siamo divertiti a realizzare. Buon divertimento. Chi non sa cosa o limeri non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. Gabbiani di Vincenzo Cardarelli Ma non so dove i gabbiani abbiano il nido, ove trovino pace. Io sono come loro, in perpetuo volo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. E come forse anch'essi, amo la pietra, la gran pietra Maria. Ma il mio destino è vivere, balenando in burrasca. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. La vita la sfiora, commessi l'acqua ad accioppare il cielo. cioè sono ingiustamente privati delle gioie della natura. Ma noi a Tariezzo non siamo in una condizione tanto triste. Il pomeriggio ci divertiamo ad andare a fare delle grandi passeggiate, andare in bicicletta, andare al fiume a prendere i cilini. La natura è un bene preziosissimo che va rispettato e proprio sul rispetto alla natura abbiamo fatto un lavoro.